In queste ore i balestrieri dei tre terzieri di Lucca stanno ultimando gli ultimi preparativi. Mercoledì 12 luglio in piazza del Duomo si sfideranno per conquistare l'ambito paglio di San Paolino. C'è grande attesa per la 43esima edizione della contesa riportata alla luce nel 1970 dalla compagnia balestrieri. In occasione dei festeggiamenti del santo patrono della città il paglio delle balestre mette di fronte i tiratori dei terzieri cittadini San Paolino, San Martino e San Salvatore che si contendono l'ambito cencio e il titolo di re della piazza. Per il secondo anno consecutivo le telecamere di Noi TV riprenderanno integralmente la serata che andrà in scena in piazza San Martino e la trasmetteranno in diretta. L'inizio alle ore 21 con l'esibizione del gruppo di fidanza rinascimentale della compagnia. Al termine il corteggio storico e la lettura del bando che darà inizio alla gara per succedere nell'Albo d'Oro a Gabriele Carmassi del terziere di San Martino vincitore nel 2016.